Buongiorno ragazzi, buongiorno di qua, oggi video molto molto veloce ragazzi Oggi video news per il calciomercato ragazzi Novità molto importante come anche cosa che avete sovraimpressione Ragazzi come titolano tutti i giornali oggi ragazzi Ivan Peric, ebbene si ragazzi Ivan Peric potrebbe lasciare l'Inter anche a gennaio Perché ragazzi la società come leggete anche voi ragazzi L'Inter si è decisa a separare le proprie strade da Ivan Peric Ivan Peric prenderà un'altra strada ragazzi Perché ragazzi comunque il rendimento ha fatto convincere la società di cederlo Ragazzi a giugno quasi sicuramente, a giugno al 100% ragazzi le due strade prenderanno due strade diverse Però ragazzi forse anche a gennaio ragazzi Perché l'Inter vuole cedere Peric a 30 o 40 milioni per fare una plusvalenza di 30 milioni ragazzi L'Atletico Madrid del ciolo Simeone ragazzi molto interessato a Ivan Peric ragazzi Speriamo che lo cedano perché ragazzi io so stufo di avere Ivan Peric squadra Perché non ti vogliamo più, non ti vogliamo più, non ti vogliamo più Ivan Peric Dal pazzo del tubo è tutto, se vi è piaciuto questo video colleghate e mi piace con il video E ti iscrivetevi qua, dal pazzo del tubo è tutto Bravi ragazzi